Felice poi ci saluta tutti con suo saluto materno sielo dato Gesù Cristo sempre sielo dato Madonna un tempo prolungato prega soprattutto noi con le mani distese poi Madonna dice cari figli anche oggi in modo particolare vi voglio invitare siate miei portatori della pace in questo mondo inquieto pregate per la pace vi invito cari figli di perseverare nella preghiera sappiate cari figli che io sempre prego insieme a voi e intercedo presso mio figlio per ciascuno di voi grazie cari figli perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata dice tutti con la sua benedizione materna e benedice tutti gli oggetti sacri portati qui per la benedizione ho raccomandato tutti voi i vostri bisogni le vostre famiglie in modo particolare ho raccomandato tutti i malati poi segue una conversazione privata tra la regente e la Madonna riservata a loro dopo questa conversazione privata la Madonna se n'è andata in preghiera nel segno della luce e della croce con saluto andate in pace cari figli miei questo è quello il più importante grazie 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 ingli